salve e benvenuti su hot spot italy oggi andremo a fare una camminata che partirà dal castello scaligero di valeggio sul mincio e arriverà a uno dei borghi più belli d'italia edificato sulle rive del mincio borghetto buon proseguimento il castello scaligero dalla sommità della collina su cui sorge domina valeggio e tutta la valle del mincio mantenendo inalterata la suggestiva imponenza delle fortificazioni medievali del xiv secolo della sua parte più antica quasi completamente rasa al suolo dal terremoto del 1117 resta solo la torre tonda il passare del tempo le guerre e l'incurio dell'uomo hanno danneggiato progressivamente questo antico monumento solo negli ultimi decenni iniziata l'opera di protezione e ricostruzione questo antico monumento era appena bella per l'uomo hanno un mandato che ha fatto ecco Grazie a tutti. 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 E ricorda di iscriverti, solo così farai crescere il canale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.